salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi potete vincere un drone si ragazzi vi ripropongo quel giochino che ho fatto circa un anno fa in cui avevo postato le clip delle dji air 2 e del dji mini avevo mescolato le clip le avevo numerate e chi mi dava su instagram all'ordine esatto del nome del drone che aveva fatto quella clip avrebbe vinto un drone così è stato il drone è stato vinto l'ho spedito a un ragazzo mi sembra in sardegna se non ricordo male e quindi questa volta si può vincere ancora un altro drone non so ancora quale nel momento in cui sto registrando il video ma quando voi vedrete il video qua sotto apparirà il nome del drone che potreste vincere però per vincere questo drone il giochino adesso è passato a tre droni perché saranno loro tre dji mini 2 film x8 mini e absinth zino mini pro saranno loro tre che voleranno qua o meglio hanno già volato in realtà ed è stato veramente veramente complicato ve lo dico subito sono clip semplicissime dal punto di vista del volo perché i droni hanno fatto davvero fatica perché c'è troppo troppo vento calcolate che questo è un lago e guardate che onde che ci sono c'è una corrente d'aria incredibile e quando vado da quella parte i droni non tornano più indietro veramente vengono avanti a una velocità lentissima sono quasi fermi eccola è passata che l'ambulanza ti pareva sei quante volte passerà un'ambulanza in un posto del genere ah no sono i vigili del fuoco probabilmente è caduto qualcosa con questo vento fortissimo che c'è allora abbiamo anche superato i vigili del fuoco quindi ricapitoliamo i droni voleranno qui hanno fatto fatica a volare è stato un incubo farli volare soprattutto nel rischio di perderli quindi adesso guardate il video le clip saranno numerate chi mi dà l'ordine esatto con le clip una fatta dalle dgi mini 2 per esempio clip 2 è fatta dal film x8 mini 3 è fatta dal ancora dgi mini 2 che mi dà l'ordine esatto e ve lo scrive su instagram il primo che becca l'ordine esatto vince questo drone qua ovviamente non so ancora qual è ma voi lo state leggendo quindi ragazzi spero che questo giochino vi lancio ancora come verrà piaciuto tanto l'altra volta è un pochino più complicato perché i droni sono tre però sono tre droni completamente diversi come marca l'altra volta erano tutte e due di dji due categorie diverse ed è stato difficilissimo è stato beccato ragazzi dopo tantissimo tempo e dopo che avevo dato un piccolo aiuto perché nessuno riusciva a beccare e parlavamo di mini 1 e ai 2 quindi due giorni diversi ma che veramente registrano talmente bene che anche il mini 1 non sfigurava di fronte ad aere quindi ragazzi vi lascio la visione delle clip come vi ho detto clip semplicissime perché più di così non si riusciva a fare come volo oggi però vediamo quanto sarà difficile per voi riconoscere appunto chi ha fatto queste clip e l'ordine esatto da chi sono state fatte queste quindi ragazzi decolliamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti